Rendezvous, il festival del nuovo cinema francese, torna a Roma al Cinema Nuovo Sacker, dal 9 al 13 giugno. Un'edizione tutta al femminile che mette al centro della scena le donne, cineaste e attrici tra volti noti e desordienti. Focus speciale è dedicato a Emanuele Beart, attrice versatile dal fascino magnetico, che sarà nella capitale per presentare il suo ultimo film, L'Etrone, di Ludovic Bergeri. Ad aprire la Kermesse, io, lui, lei, l'asino, di Caroline Vignal, con mediano western femminista Color Calamie, la nomina e la serie Chiami il mio agente, mentre la nostra Alba Robbacher, la protagonista dell'opera prima, sulle Siel d'Alice, dell'esordiente Chloé Maslou. Quando mi sono resa conto che l'aspettavo, che aspettavo per un'intera giornata, il momento in cui l'avrei visto all'uscita di scuola, ho capito che era tardi, ero fottuta. A Pasqua sono partita per due settimane, tutto il giorno mi ripetevo Antoinette, falla finita, è sposato, ha una figlia, per di più è nato allieva, la conosci. Niente da fare. Mi credo di non tornare a casa per un bel po'. Buon Natale! Non, 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 non.